Musica Potenta! Pala ragazzi! Qua Axel V2 E no non V2 scusate oggi Oh ragazzi ci sono da solo E sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è finalmente un nuovo pack opening Innanzitutto dico finalmente Perché era da un macello di tempo che non ve ne portavo uno Secondariamente come sempre volevo ricordare Passare da FIFA Non è stato interessante comprare il kit di FIFA E per ultimo vi volevo spiegare Perché ho detto V2 Ovviamente perché ho sbagliato Ma poi perché mi ero promesso di ricordarvi Di passare nel mio secondo canale Perché ci sto iniziando a ricaricare dei video Video che adesso sono di Call of Duty Ma che in un futuro diventeranno Quando appunto uscirà di FIFA 15 Perché inizierò la serie chiamata pack O eventualmente packs of the day Che appunto è quella serie in cui io cercherò di andare Ad aprire un pacchetto ogni giorno Comunque tornando a parlare del discorso di prima Ora ci sto facendo dei video di Call of Duty Quindi se siete interessati a vedermi Diciamo anche su altri giochi Come in questo caso Call of Duty Mi raccomando fateci un salto Il link trovate in descrizione Oppure qua in alto a destra Il canale si chiama Workset V2 Detto questo Io andrei ad aprire subito questi pacchetti speciali Che appunto sono quelli da 100.000 Ed ho un macello di tempo Che non ne apro uno E poi volevo chiedervi una cosa Intanto che si apri non guardo Vi volevo chiedere E una sorta di sfida Di fare fare una sfida Non una sfida abbastanza articolata Però appunto una cosa da porre Da fare appunto Nel caso in cui io non trovi niente Nei pacchetti Questo ovviamente Oddio una leggenda Oddio Oddio Cineband E la cattiva leggenda E partiti E andiamo a trovare le leggende a settembre Un anno dopo l'uscita del gioco Noi troviamo le leggende Mamma mia Va bene Va bene signori Per il resto Niente Ragazzi Molto bene Comunque stavo dicendo Di consigliarmi qualcosa da fare Nel caso appunto in cui Non trovi niente Nei pacchetti Do Magari delle flessioni E cose simili Non dico abbastanza articolate Perché quelle articolate Magari saranno le penitenze Che utilizzerò Nella serie chiamata Brutal Challenge Comunque Primo pacchetto Andato alla strada Secondo Andiamo A chiudere gli occhi Per aprire il secondo Chiudiamo gli occhi Quindi chiudiamo gli occhi Buonissimo Mi è trovata una leggenda Mai me lo sarei aspettato Veramente Tutto tranne una leggenda Andiamo a vedere 3 2 Uno Un altro in forma Un culo Un culo Bravo Un culo Si bravo Michu Michu Pizarro Va bene dai Due Una leggenda Ancora Armero Ma non è finita Non è quello del Milan Boh vabbè Troviamo quello del Milan Dico che non è finita Perché andrò da per in altri due Su un altro account E andiamo E andiamo Abbiamo cambiato account Vogliamo trovare un'altra leggenda Anche in questi due Quindi Il primo guardavo Adesso devo guardare ragazzi Guarderò anche questo Intanto voglio 3000 mi piace Così a random E guardiamo un po' No anzi non guardo È più bello Senza guardare Vi apriamo Un altro in forma Ancora Martins Va bene Va bene relativamente Diciamo E vabbè Vabbè dai Martins Va bene comunque Va bene comunque Adesso Ne abbiamo ancora uno E in quest'uno Per me troveremo Falcao del Manchester United Io l'ho detto E ecco Mi sa che uscirà il pink pal È suo Mi sa proprio di sì Perché è il prossimo video Che registro Credo sia quello Comunque si vedrà E andiamo a vedere Questo ultimo pacchetto Di oggi Chiudiamo ancora gli occhi Saltiamo Gli riapriamo No Mannaggia Soldato Xabi Alonso Del Bayern Madonna Graziano No poi basta Che schifo Martins Madonna Avevo tre volte Martins in forma Oh mio Dio Se pensavate davvero Che quelli erano Veramente I miei ultimi Due pacchetti Vi stavate sbagliando Di grosso Ed evidentemente Non mi conoscete Assai Però adesso Veramente Questi qua Sono gli ultimi Due Quindi Andiamo ad aprirli E dobbiamo trovare Ancora Martins Il dato che abbiamo trovato Poche volte Chiudiamo gli occhi Io vorrei Ibra Al tre li riapriamo Uno Due Tre No Visto Mascherano Pensavo ancora Possessi messi Gomez Magari alla fine Dai Alla fine Oh Eliseo Un altro in forma Va bene Buono Visto che era la fine Visto Ultimissimo pacchetto Di oggi ragazzi Adesso Battiamo Battete anche voi Due volte le mani Perché se le avrete battute Troveremo sicuramente qualcosa Voglio un altro in forma Mi sa che In tutti E mi hanno trovato Almeno in forma Boh Credo di si Ti dobbiamo gli occhi Li riapriamo adesso Iguain Close to run No Mannaggia Oh Fu Acuputu Dai Nessuno Buonissimo No No L'abbiamo chiuso male L'abbiamo chiuso male Mannaggia Aspettate Ultimissimo pacchetto Dai Un giocatore sopra L'82 Trovato Nei pacchetti 7500 Lo ritengo una cosa Abbastanza buona Quindi appena lo troveremo Podrò chiudere il video Primo pacchetto Eh infatti Molti Oh Coscelli ragazzi No no Coscelli va bene Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Fatevi sapere se appunto Vi va bene Che io Pink Palazzi Fa il cao del Master United Nel prossimo Nel prossimo video Nel prossimo Pink Palazzi E quindi Detto questo Io vi saluto E vi dico Poi Da Palazzi Da Poi Poi Ah si E ricordatevi Passare dal secondo canale Poi